La vita in città può essere impegnativa. È ora di ripensare al modo in cui ci muoviamo. Ci sono modi più intelligenti per spostarci all'interno delle nostre città. Ridurre l'inquinamento e le emissioni nocive per il clima attraverso le nostre azioni quotidiane è possibile. Rendere le città un luogo più sano e felice è per noi un impegno e un diritto. Insieme, un passo alla volta, possiamo pensare e realizzare un futuro a emissioni zero.